Prenotazioni online. Gli alberghi comaschi nei giorni a cavallo tra il 25 aprile e il primo maggio hanno un'occupazione superiore al 70%. Questo, almeno, è ciò che emerge da un rapido confronto effettuato su alcuni dei principali portali dedicati alla prenotazione di strutture alberghiere, strumenti oggi molto utilizzati soprattutto per i soggiorni brevi. Abbiamo provato a prenotare una camera doppia per un weekend lungo sul lago di Como. Check-in venerdì 27 aprile. Check-out martedì 1 maggio, inserendo le stesse date e le stesse caratteristiche in tre dei più popolari siti di prenotazione alberghiera. Nel primo abbiamo riscontrato un tasso di occupazione degli alberghi pari al 71%. Nel secondo il tasso di occupazione arrivava al 91%. Nel terzo sito il dato più alto, disponibile solamente il 3% delle strutture con il 97% delle camere già venduto. Questo non significa ovviamente che il 70 o 90% degli alberghi comaschi sia al completo, perché ogni hotel può decidere di vendere sulle piattaforme online una quantità di camere che non per forza corrisponde all'intera capacità ricettiva. Il resto delle camere può essere venduto, ad esempio, su altri portali o con canali più tradizionali. Ma il tasso di occupazione che emerge da questo rapido confronto indica come in questi giorni, a cavallo tra le due festività italiane, il settore turistico lariano stia lavorando a pieno regime.